Negli ultimi mesi si sono rincorse le voci, che vedevano forma vicino al capolina, il rapporto tra Matt Bellami e Kate Hudson. Alla cerimonia degli Oscar, l'attrice, si è presentata, senza l'anello, al dito, e ciò, ha avvalorato la tesi di una rottura. Le cose, ero, sembrano stare diversamente. Intervistata da una giornalista di Extra, la Hudson Hachialito, che tra lei, e il frontman lei use tutto procede a gonfie vele. Non solo. I due, che sono diventati genitori nel 2011, stanno pensando di convolare a nozze. Non abbiamo ancora pianificato le nozze, ma alla fine ci saranno, probabilmente molto presto. Nessuna crisi, dunque. Matt e Kate hanno festeggiato il loro quarto anniversario, nel corso del Coacchella Ballet Music and Arts Festival. Il mio uomo ha cantato al Coacchella. Era il nostro quattro anniversario nonché il mio compleanno, e ci siamo incontrati al Coacchella, quindi è stato divertente. Chi se ne frega.